È un mese che veramente lo senti con il cuore, cioè l'adorazione, il digiuno lo senti con il cuore. Per questo è un mese in cui, piuttosto che è una serata in cui concludiamo con sempre delle preghiere che facciamo la sera, appunto per ringraziare Dio che ci ha aiutato e ci ha dato questa occasione di digiunare per Lui. Com'è la presenza musulmana a Verona? A Verona, i musulmani a Verona e provincia naturalmente saranno come numero sui 35.000 come presenza. Quelli che frequentano il nostro centro qua a Verona Centro sono quelli che abitano proprio al centro, che sono quasi la metà dei musulmani che vivono a Verona e provincia. In tutti i centri culturali penso che ci sia una buona integrazione, un buon rispetto reciproco da parte che sia dei nostri connazionali italiani, che sia da parte dell'associazione di volontariato con cui collaboriamo in pieno e che sia anche con le autorità del posto. Volevo proprio chiederle appunto di questa lettera del Papa sulla promozione del mutuo rispetto attraverso l'educazione. Cosa pensate di questo? Condividiamo in pieno perché il rispetto reciproco è quello che fa convivere delle persone pur non condividendo lo stesso pensiero o la stessa modalità di vita. Il rispetto reciproco è la base della convivenza reciproca e soprattutto cercando di praticarlo tramite l'educazione. Intanto l'educazione dalle nuove generazioni, cioè quelle che stanno venendo fuori i bambini, nelle scuole e poi partendo anche da noi perché tante volte ognuno quando viene dal suo paese d'origine ha una certa idea, ha una certa visione di un certo luogo in cui lui va. Però quando viene e vede la realtà noi riconosciamo la diversità che Dio ha creato, con cui ha creato tutto il mondo. Cioè non siamo tutti uguali, siamo diversi ma impariamo a rispettarsi nella diversità che Dio ha scelto per noi, non che noi abbiamo scelto per noi.